Le dinamiche demografiche si misurano con gli esiti di una crescita esponenziale esplosa già nel secolo scorso e contemporaneamente con le nuove sfide che clima, diseguaglianze, squilibri generazionali impongono. In questa chiave la demografia è uno strumento di utilità incisiva sia per interpretare i fattori di cambiamento che concorrere a quell'aggiornamento della nostra capacità di lettura di società e territori resa ancora più necessaria dall'accelerazione della pandemia che stiamo vivendo e attraversando. L'incontro con Alessandro Rosina e Lorenzo Bellicini vuole appunto riflettere, a partire dai dati demografici, sulle strategie e le politiche da attivare per riaffermare in positivo un progetto di crescita e futuro. Eccoci qui al nuovo appuntamento su questa nostra indagine attorno ai temi che possono caratterizzare gli aspetti più rilevanti che questo post-Covid, mi auguro sia già da interpretare come un post-Covid, che possono essere indicatori di alcune delle strategie che forse questo nostro impegno per la trasformazione dovrebbe assumere. Abbiamo scelto tra i capitoli di questa indagine, un'indagine che come sapete è rivolta soprattutto a delle figure non strettamente disciplinari ma che si occupano di altro ma che il cui altro ha una grande rilevanza anche per la nostra attività, quindi una sorta di registro multidisciplinare delle tematiche. Abbiamo scelto in particolare anche il grande tema demografico. Io qua prendo in prestito una frase che mi è piaciuta molto di uno dei nostri due interlocutori che adesso vi introdurrò perché in qualche modo la demografia, una delle sfide della demografia è innanzitutto anche una sfida culturale. Questo mi è piaciuto moltissimo come input per capirne un po' la lettura. L'indicatore demografico è infatti anche uno strumento di interpretazione ed è uno strumento che in qualche modo ci proietta verso il futuro. A parlarne con noi sono due figure che su questo tema hanno costruito un grande percorso di indagine e di riflessione. Ve li presento, sono Alessandro Rosina, è professore ordinario di demografia e statistica sociale presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica di Milano. È uno delle voci più importanti e interessanti su questi temi. È autore di moltissime pubblicazioni, io ve ne cito due perché secondo me sono già indice di qual è il taglio con cui Alessandro Rosina muove le proprie indagini all'interno del grande tema della ricognizione demografica. uno è un libro ormai molto noto e conosciuto che l'Italia non è un paese per giovani, l'anomalia italiana edito tra l'altro da Marsiglio e vi cito anche uno dei suoi ultimi lavori, anche questo molto evocativo, il futuro non invecchia. L'altro ospite è Lorenzo Bellicini. Lorenzo Bellicini io lo considero, oltre che un grande amico, lo considero una delle figure più interessanti nell'applicazione della ricerca, anche demografica, verso una raccolta di informazioni costante e continua nel tempo. Lui è un po' l'anima di Cresme e Cresme è questo istituto di ricerca ormai molto affermato da tantissimi anni, credo operino da più di 50 anni forse se non vado errato, e molto impegnato proprio su quegli aspetti che ci sembra siano tra i più vicini alle corde e alle cifre del nostro lavoro. E cioè aspetti che riguardano proprio le trasformazioni urbane. Cresme ha una produzione continua e costante come osservatorio delle fasi trasformative, soprattutto nel mercato delle costruzioni, edita annualmente, ed è un appuntamento di settore assolutamente ormai imperdibile, edita la congiunturale annuale e previsionale su questo tema, ma si occupa anche di moltissimi altri ambiti di ricerca che investono gli aspetti strutturali all'interno delle dinamiche territoriali. Con loro vorrei affrontare alcuni dei temi. Parto subito con una prima riflessione, è una riflessione più di carattere generale, che però mi sembra prodromica e necessaria in qualche modo per inquadrare il tema. Anche un tema che poi, secondo me, cercheremo nel corso di questa conversazione di calare anche nel contesto ovviamente più prossimo a noi e quindi nell'analisi della condizione italiana. Mi riferisco quindi come primo invito al loro contributo alla visione del tema su scala globale legato alla crescita della popolazione mondiale, che sappiamo, prevediamo per la metà del secolo attorno ai 9 miliardi di abitanti, ma che sappiamo essere una crescita non per niente omogenea, se esuberante in certi ambiti continentali, molto più statica per altri. Quindi su questo tema, molto ampio, vi porto due quesiti. Quali possono essere innanzitutto le ricadute sui sistemi insediativi e su quelli che noi definiamo processi di urbanizzazione e quali prospettive di sostenibilità voi riconoscete nei movimenti demografici e migratori che questo tipo di trasformazioni indurranno? La parola parto da Alessandro e gli chiedo una sua riflessione su questo argomento. Grazie. Noi veniamo da un secolo, quello precedente, di crescita irruenta della popolazione in cui il fattore popolazione era soprattutto quello quantitativo, siamo passati da 1,6 a 6,1 miliardi e quindi una crescita unica nella storia dell'umanità. Nel nuovo secolo che stiamo vivendo non ci sarà più una demografia soprattutto caratterizzata da crescita quantitativa così forte, ma la demografia continuerà a contare molto sulle dinamiche più generali della vita su questo pianeta. Potrei sintetizzare con 4i le sfide che si connettono al fattore demografico in questo secolo. La prima i è quella dell'impatto ambientale e quindi la necessità poi di rendere sostenibile nella accensione più ampia che possiamo dare la presenza comunque sul pianeta di una popolazione che andrà comunque a crescere, non con il ritmo del secolo scorso, ma saremo di più, arriveremo appunto a 9 miliardi ma anche a stabilizzarci poi nella seconda metà di questo secolo attorno ai 10 miliardi, quindi che cosa vuol dire un pianeta con questa quantità di popolazione e come quindi rendere sostenibile dal punto di vista ambientale. La seconda i è quella dell'innovazione tecnologica che ha a che fare con il rinnovo generazionale che io metto sempre al centro della questione demografica, perché la demografia non è solo la struttura della popolazione, la fotografia che diamo della popolazione in un dato momento, la demografia ha come chiave di lettura proprio il rinnovo e il ricambio generazionale, cioè l'arrivo di nuove generazioni che danno il proprio sguardo sul mondo, trovano nuove soluzioni e con i loro strumenti poi cercano anche di migliorarli, migliorarlo quando sono messi nelle condizioni di farlo. La terza i è quella dell'invecchiamento della popolazione, perché appunto, come ben sappiamo, questa è una delle grandi trasformazioni che riguardano questo secolo e la quarta i è quella dell'immigrazione, un altro fattore demografico particolarmente importante che caratterizza le dinamiche che sono in corso e continuerà a caratterizzarle nei prossimi decenni. Ecco, tutte queste quattro sfide, quattro i, si intrecciano con il ruolo delle città, delle grandi città. Ad esempio, la crescita, l'hai accennato tu all'inizio, differenziata sul territorio, avremo delle aree del pianeta che cresceranno di più, altre di meno, vale ancora di più per le città. A crescere saranno soprattutto, adesso vedremo anche lo scenario dopo il Covid, che cambia un po' di cose, però sicuramente il ritmo di crescita della popolazione urbana rispetto a quella rurale è una delle grandi differenziali di crescita di questo secolo. E poi, nella crescita differenziata nelle varie regioni mondiali, in larga parte è riconducibile alla crescita delle grandi città e metropoli di quelle aree del mondo. E quindi gran parte appunto della crescita differenziata dipende appunto dall'evoluzione delle città, le dinamiche che si creano all'interno delle città e al loro sviluppo. Poi c'è il tema, come sappiamo, dell'invecchiamento che è ancora di più rilevante nelle città, perché le grandi città sono poi quelle anche in cui la crescita, diciamo, endogena è più debole, perché la natalità tendenzialmente è più bassa, ma le grandi città crescono soprattutto perché attraggono popolazione e quindi questa connessione tra struttura demografica che cambia, che invecchia, ma capacità poi delle città di essere attrattive è esattamente quello che connota poi la capacità di renderle sostenibili e di continuare, di poter crescere, di essere innovative, cioè la loro attrattività diventa centrale poi nei loro percorsi di successo all'interno di questo secolo e quali saranno poi le aree e le città che poi riusciranno meglio a interpretare e a declinare queste grandi trasformazioni. Quindi grandi sfide che la demografia pone in questo secolo, che hanno a che fare direttamente con la qualità della vita delle persone, passiamo da un secolo in cui contava la quantità, un secolo in cui conterà più la qualità e queste sfide poi particolarmente concentrate e rilevanti soprattutto all'interno delle grandi città. Allora è evidente che noi siamo di fronte a uno scenario che a breve, diciamo tra virgolette a breve, vede un incremento da 7 miliardi a 9 miliardi di Euro, quindi stiamo parlando intorno al 30% di incremento, poi c'è una grossa discussione sulle previsioni, nel senso che se le economie avanzano si faranno meno figli e quindi i tassi di crescita saranno più bassi, e nelle città la natalità è più bassa che nelle campagne e quindi questo è il problema, però sicuramente siamo di fronte ad una questione di crescita. Allora una delle domande giustamente che viene sollevata è quella di dire ma ce la faremo a rispondere alla domanda che questa nuova, è una vecchia questione maltusiana, mi sono trovato recentemente in un convegno con Luca Mercalli, io parlavo prima, lui parlava dopo Luca, ci conosciamo, siamo stati in diversi convegni assieme, io ho finito il mio convegno tanto per darvi un'idea, nel convegno dove ci avevano invitato, noi avevamo fatto uno studio sulla distribuzione idrotermosanitaria in Italia, quindi il mercato dei bagni, il mercato delle piastrelle, e alla fine del seminario, di questo incontro dove in realtà c'erano circa 800 persone, tutti operatori di mercato, era un convegno di business, io ho detto guardate, ho guardato, ho visto che c'erano abbastanza giovani e il problema qual è? Che questa crescita demografica non è per tutti, la crescita demografica è per quelli che una volta chiamavamo economie emergenti, che forse potremmo anche chiamare in alcuni casi economie molto emerse e invece abbiamo economie avanzate, tra cui quella europea, tra cui quella italiana, tra cui quella tedesca, che hanno problemi invece di crescita demografica, c'è uno scenario squilibrato da questo punto di vista. Io ho finito il mio intervento guardando la platea e dicendo, oh vedo un po' di giovani stasera che andate a casa, datevi da fare perché qui abbiamo bisogno. Luca nel suo intervento, ha finito il suo intervento dicendo, Lorenzo vi tenete conto che oggi il problema ambientale è legato alla crescita delle persone, per cui cercate di non crescere. Allora qui abbiamo secondo me un problema serio che è fondamentale visto che la questione ambientale, la questione ecologica, il tema della sostenibilità è il grande tema dello scenario, di ragionare con correttezza su queste problematiche. Allora io pongo una questione da questo punto di vista, giustamente, Alessandro diceva, oggi siamo di fronte a un processo di emigrazione molto forte dalle campagne alle città, è evidente. Allora se dovessi dire, nell'attuale ciclo sistemico che stiamo attraversando, se faccio riferimento a un autore che io amo molto, che è Giovanni Arrighi, e quindi faccio riferimento a tutta una scuola. Siamo di fronte a una fase che assomiglierà molto, praticamente, a quella del… lui studia praticamente dal 1350 sino ad oggi, racconta quattro cicli sistemici di accumulazione, il primo è quello delle città-stato italiane, dove i leader del mondo, il contenatore di quella fase di sviluppo sono le città-stato, sono le città italiane, che sono piccole, che però hanno tutta una serie di caratteri di innovazione, di capacità di gestire finanziariamente o, tra virgolette, economicamente i mercati. è una delle questioni. Quello che abbiamo davanti, con i processi di emigrazione, con i processi di concentrazione, sono le grandi città, i nodi delle catene globali del valore, che determineranno la competizione all'interno dei mercati, non è una soluzione, è una questione, è una domanda che abbiamo. Certamente quello che sta succedendo è un forte processo di crescita dei sistemi urbani. Tenete tutti presente che oggi siamo di fronte al più alto salto di scala nella dotazione di capitale fisso edilizio della storia. Non si è mai costruito così tanto. Non si è mai… c'è un processo di urbanizzazione molto forte, un processo di infrastrutturazione molto forte, un processo di industrializzazione molto forte. Allora, il tema diventa, il problema è la concentrazione urbana, il problema sono le costruzioni. Io porterei la riflessione ad essere molto più attenta. Il problema sono i processi produttivi, il problema sono i modelli di consumo. Se io vi dovessi chiedere quant'è lo spazio occupato dalle città oggi, dando gli studi più raffinati che ci sono, oggi le città occupano, in termini di impermeabilizzazione della parte emersa del globo, della terra, dall'1,5% al 3% del territorio. Mi verrebbe da dire che il problema non sono le città, il problema è il modello economico che noi stiamo vivendo. Paradossalmente le città sono il sistema più efficiente, funzionale, di utilizzo del territorio. Il problema è il sistema che noi stiamo utilizzando, è veramente il modello di consumo, è il sistema di produzione, è la capacità di gestire il metabolismo del processo di trasformazione di un territorio, e di queste persone che arrivano e che consumano, che producono, eccetera. Allora, da questo punto di vista, secondo me, noi dovremmo in qualche modo rivoluzionare una serie di pensieri e di luoghi comuni che si sono determinati, che hanno radici magari anche sostanziali nel passato e che oggi vanno ripensati. E certamente, voglio dire, in questo scenario è chiaro che la demografia è sicuramente il tema più importante, non c'è dubbio. Cioè, ragionare su che cos'è la demografia non è solo, come Alessandro dice, la demografia è una questione culturale, è una questione economico-culturale. Cioè, è veramente, come dire, il nodo. E paradossalmente, chiaramente, qui utilizzo il mio punto di vista, che è vicino al mondo dell'ino, a quello di chi si occupa dei processi di trasformazione territoriale, dove vive per il 90% del suo tempo questa popolazione. Vive nel prodotto delle costruzioni. Vive sulle strade, vive nelle case, vive negli uffici. Allora, questa connessione, praticamente, tra questione ambientale e sostenibilità e che cos'è le costruzioni o cosa devono diventare, è praticamente il grande tema che la crescita della popolazione non farà altro che esasperare nei prossimi anni. In un certo senso, anche perché è un elemento caratterizzante la struttura antropizzata italiana, il 60% del nostro territorio, lo sappiamo, è costituito da piccoli centri, centri minori. Il tema che tu sollevavi, ma che ha anticipato anche Alessandro, il tema della concentrazione urbana è un tema che a causa, se vogliamo, della pandemia si ripropone con un ripensamento anche su queste politiche di concentrazione a fronte, per esempio, di alcune soluzioni che spesso sono puramente forse oniriche, che però investono la questione di una policentricità territoriale. Ecco, secondo voi, lo chiedo ad Alessandro in primis, secondo voi quali sono le evidenze demografiche che possono rilevare o darci una stima di improiezione su questo tema? E anche in seconda battuta, ci possono essere delle condizioni a vostro avviso per cui si inneschi qualche processo più stabile di ripopolamento delle aree interne e a quali condizioni? A te soprattutto Lorenzo. Ok, no, intanto una replica a Mercalli, perché qui sarebbe necessario un po' più tempo sicuramente, però provo a cavarmela con una battuta, perché anch'io mi sono scontratto spesso con lui, sia personalmente che no. Cioè noi non possiamo ipersemplificare le sfide che abbiamo davanti e pensare che non fare figli sia la soluzione dell'impatto. Mi fa semplicemente ridere questa cosa. È come se io avessi il mio vicino che ha una figlia obesa e allora dicessi, vabbè, allora mi va bene che mia figlia sia anoressica, perché se sua figlia è obesa, la mia è anoressica, tutto sommato nel nostro condominio stiamo bene. Cioè è come se l'eccesso di crescita della popolazione africana e il declino e l'invecchiamento della popolazione europea potessero automaticamente per miracolo risolversi semplicemente con l'Europa che fa ancora meno figli e l'Italia che crea ancora più squilibri demografici, non risolvendo sicuramente la sfida che ha l'Africa, semplicemente complicando ancora di più la sostenibilità sociale ed economica del nostro paese. Scusa, è il pollo di trilussa che non funziona? No, noi dobbiamo quindi avere in mente che serve uno sviluppo sostenibile in un certo senso, di un certo tipo, con proprie soluzioni dell'Africa e serve uno sviluppo sostenibile in una certa direzione e con scelte adeguate nei paesi più avanzati, ma non possiamo pensare che la semplificazione sia quella, siccome loro crescono molto allora noi azzeriamo la crescita di popolazione e così risolviamo uno squilibrio con un altro squilibrio opposto. Vabbè, comunque, chiuso questo. Però vi fa capire quanto invece sia importante saper gestire la complessità della realtà che si è accentuata enormemente in questo secolo rispetto ai secoli precedenti e che ha bisogno della nostra capacità di lettura potenziata, per poi dare delle soluzioni che sono comunque le soluzioni sistemiche, perché non è che Europa e Africa vivano in due pianeti diversi e quindi è evidente che poi dobbiamo trovare soluzioni che siano funzionali e possibilmente integrate. Rispetto allo spopolamento dei centri minori, alle aree interne, anche qui una soluzione eccessivamente semplificatrice che può avere una sua ragione è quella di accorpare i comuni, che può essere comunque una soluzione perché risponde alla necessità di ridurre i costi, di mettere in condivisione i servizi, ma non va a risolvere il malessere demografico che sta alla base dello spopolamento delle aree interne e che quindi invece va risolto con un miglioramento dei servizi, ad esempio per le famiglie, a partire dai servizi socioeducativi, perché sappiamo che è dall'investimento soprattutto per le famiglie con figli e dell'infanzia che poi si crea quel sistema di comunità che consente poi di diventare più virtuoso e di diventare anche più sostenibile. Quindi i servizi per l'infanzia, i servizi per gli anziani non autosufficienti, la possibilità di essere accessibili sul territorio, la conciliazione tra lavoro e famiglia, l'organizzazione familiare aiuta sia a aumentare la natalità dei centri in cui è eccessivamente bassa, ma anche di aumentare il lavoro, l'occupazione femminile e costruire una comunità che sia più solida, che sia più poesa. Dall'altro però è evidente che conta molto le opportunità di lavoro e le opportunità è particolare poi dei giovani, perché altrimenti se non sei in un territorio che consente poi di poter svolgere una propria attività e di essere quindi anche positivo rispetto alle scelte che i giovani possono fare, non solo non fanno figli ma se ne vanno. Quindi gli incentivi che per l'insediamento di nuove aziende di sostegno a quelle esistenti vanno bene anche nel medio e lungo periodo se però entrano in maniera coerente con un piano di sviluppo del territorio, quindi non possono essere semplicemente incentivi sul breve periodo per fare in modo che resistano in difesa, deve essere qualcosa che trova una propria coerenza all'interno di uno sviluppo coerente col territorio. Oltre poi alle infrastrutture sociali, e qui poi chiudo questa riflessione, conta molto comunque anche il potenziamento infrastrutturale più in generale, quindi i collegamenti ma anche le connessioni di rete, la possibilità appunto delle offerte dalla banda larga, tanto più poi con l'impatto del Covid e della pandemia è possibile poter interagire, lavorare, studiare anche rimanendo in zone che possono essere pensate, in passato poterono essere pensate molto decentrate e scomode. Ecco, tra l'altro molte di queste zone hanno un valore aggiunto in termini di paesaggistico, di contesto anche ambientale positivo e quindi poter comunque godere sia di una realtà che abbia questi aspetti positivi ambientali e paesaggistici, ma che abbia assieme sia un'infrastruttura sociale e anche poi di collegamenti adeguati attraverso appunto la banda larga, la possibilità di connessioni in rete può aiutare molto a dare delle risposte e fare in modo appunto che ci sia anche, che quel malessere demografico trovi risposte. Allora, provo a aggiungere alcune cose con una piccola premessa, nel senso che sulla base di alcuni lavori che abbiamo fatto recentemente, oggi il nostro territorio non è vero che è fatto per il 60% dei piccoli centri, in realtà diciamo che il parametro più interessante per conoscere un territorio è sicuramente quello che è forse anche la cosa che l'Istat ha elaborato con maggiore qualità secondo noi, che sono i sistemi locali del lavoro. I sistemi locali del lavoro sono oggettivamente il vero elemento di analisi territoriale. Allora, oggi se io dovessi dire dividere il nostro paese tra i sistemi locali del lavoro con oltre 250 mila abitanti, vado a memoria, posso sbagliare qualcosa, ma non tanto, stiamo parlando del 36% della popolazione. Se prendo quello che è la storia del nostro paese, le 100 città medie, le città, diciamo, quelle medie, e stanno praticamente intorno al 27% della popolazione, in qualche modo hanno, sto parlando dei sistemi locali, non delle città, un po' di ruolo nella partita competitiva degli anni 2000 sicuramente, hanno perso un po' della vera natura del modello italiano in qualche modo, e il resto, un altro 37%, è fatto da quello che potremmo definire territorio diffuso. Questo territorio diffuso è costruito però in modi diversi, perché un conto del territorio diffuso di pianura e collina, che è paradossale nel nostro paese, assomiglia, voglio dire, i paesi che assomigliano di più all'Italia da questo punto di vista sono la Germania e gli Stati Uniti, tanto per avere un'idea. Germania, è vero che però gli Stati Uniti ha delle città molto grandi, ma se analizzi praticamente il sistema insediativo degli Stati Uniti, più o meno ti rendi conto quanto conta il sistema minuto praticamente nel loro modello economico. La Germania è un po' come noi, con caratteristiche diverse, perché le città tato stedesse c'è proprio un modello di governance diverso sul quale varrebbe la pena di ragionare. però questo territorio diffuso va letto in maniera diversa. Abbiamo studiato, quando Mario Cucinella è stato incaricato della Biennale di Architettura che ha lavorato su questo concetto dell'arcipelago e ha lavorato sulle aree interne, ci ha chiesto di fare un'analisi che fosse in grado di fornire materiale. naturalmente ci siamo scontrati con il lavoro che ha fatto la SNAI sul sistema, quindi il Ministero, sul rilanciare la questione delle aree interne del nostro Paese. Allora, noi siamo convinti che su questo tema c'è una sopravvalutazione molto importante. Queste analisi sono molto molto deboli, cioè non è vero che il 20 milioni di italiani sta nelle aree interne. Tenete presente che i parametri per definire le aree interne sono state le distanze e alcune funzioni, tra cui la stazione, alcuni servizi e praticamente se tu andavi da 20 a 40 minuti, praticamente ti trovavi in una situazione che poteva essere considerata area interna. Allora dateci noi a Roma 40 minuti dei servizi dove possiamo accedere in questi tempi e ci rendiamo conto che le cose sono un po' diverse. Secondo le nostre riflessioni le persone che vivono realmente in quelle che possiamo definire aree interne sono sì o no 4 o 5 milioni di persone, che non sono pochi e che sono sicuramente importanti, quindi non è da svalutare il problema delle aree interne, ma è dare alle aree interne nella loro giusta dimensione. Perché se io dovessi dire qual è il vero problema delle aree interne e chiedermi ma hanno delle opportunità, è bella questione, sicuramente, lo diceva Rosina adesso, un minimo di infrastrutture gliele devo dare. Quando voi andate nelle aree interne di un certo tipo, non riuscite nemmeno a telefonare, non che avete la connessione a internet, io vado in vacanza in Sardegna in un posto abbastanza sperduto, una delle componenti del mio andare in vacanza in questo posto tra gli amici e il fatto che è rimasto un pezzo di territorio abbastanza intatto è che faccio fatica a collegarmi con il resto del mondo che mi cerca sempre. però io devo andare a lavorare lì, io posso concedermi 15 giorni di questo modello, se io invece dovessi andare lì, eh beh io dovrei essere assolutamente connesso e non lo sono e attenzione non è un problema di automobile e di rapporto con la stazione ferroviaria o con l'ospedale o con i servizi basilari che si sono sicuramente depauperati in qualche modo nel singolo paesino. Ma questo paesino deve connettersi con l'economia mondo, con il mercato del lavoro e non può non avere i servizi base che oggi consentono. Per cui anche il tema che è uscito adesso, poi credo che ne parleremo dell'impatto della pandemia sulle città e sul... adesso non posso dire niente ma usciremo nei prossimi credo due settimane prossima con una cosa su sull'impatto della pandemia, ma ha sorpreso e non la brucio. Cioè qui stiamo, insomma, ha ragione assolutamente Rosina, non possiamo avere delle soluzioni semplici per problemi complessi e dobbiamo, come dire, affrontare i problemi individuando quali sono gli elementi base per avviare un percorso di soluzione. Cioè un rilancio delle aree interne è, come dire, è importante, ma un rilancio della capacità competitiva dei sistemi urbani italiani, in termini di produttività, con quello che è successo nei sistemi urbani europei, questa è la questione ben più importante. Allora, da questo punto di vista, secondo me, questa riflessione delle aree interne diventa un facile luogo comune su cui scaricare una serie di attenzioni. Una volta in un certo mondo intellettuale di una certa area ci occupiamo delle marginalità minute e perdiamo le dimensioni delle cose che stanno succedendo. Andiamo a rifugiarci praticamente sui margini più distanti e perdiamo praticamente le cose importanti che ci sono. Da un punto di vista demografico, secondo me, adesso va valutato l'impatto della pandemia, ma la cosa principale è il mezzogiorno. Nel mezzogiorno, poi ne parleremo, la casa per molti abitanti del mezzogiorno non è più un valore, ma è un costo. Non vale niente, si depaupera, è vuota, si degrada. Perché? Perché abbiamo fenomeni di perdite di popolazione che sono drammatici. Sino a ieri. Quindi vedremo che succede adesso con la pandemia. Io non sono molto fiducioso che dopo due o tre non si rinneschino, se l'economia non parte in un certo modo, gli stessi processi di prima. se parliamo di città intelligenti, credo che la prima cosa che l'intelligenza dovrebbe affrontare è quanto, per esempio, l'entropia sociale o quelle disuguaglianze che si stanno producendo possano influire e interessare lo squilibrio demografico che stiamo vivendo. Lascio la parola ad Alessandro, scusate l'inserimento. Bisogna un po' raccontare le dinamiche che hanno caratterizzato un po' il nostro paese, perché storicamente il nord d'Italia è sempre stato più attrattivo, prima soprattutto nei confronti del sud, ma in quell'epoca il sud dal punto di vista demografico era esuberante. E poi ha continuato a essere attrattivo soprattutto nei confronti dell'estero, quando è iniziata questa fase di forte immigrazione che ha cambiato anche il segno dei flussi del nostro paese, paese di grandi emigrazioni, che poi quasi improvvisamente, in maniera molto consistente invece ha attratto immigrazione dall'estero, ma l'ha attratta soprattutto nel nord, nel centro nord. Quindi quando il nostro paese ha cominciato a evidenziare quel crollo della natalità che ci ha portato alla fine degli anni Ottanta a toccare i punti di fecondità più bassi al mondo. Noi siamo passati da un numero medio di figli per donna attorno a due nella seconda metà degli anni 70 e quel due è molto importante perché vuol dire che in media due figli sostituiscono i genitori, vuol dire che l'equilibrio tra generazioni rimane costante. Non vuol dire che la popolazione non cresce, ma quantomeno rimane un equilibrio tra generazioni sostanzialmente stabile. Ma quando tu lo riduci molto, quindi va benissimo anche una fecondità un po' sotto i due figli per donna, quindi anche compatibile con un'eventuale riduzione progressiva della popolazione. Ma quando tu improvvisamente la riduci di molto e la tieni persistentemente bassa, cioè più vicina a un figlio per donna che a due, attualmente è 1,27 e l'Italia ormai è da molti decenni sotto un figlio e mezzo, quindi più vicino a uno che a due, vuol dire che stai producendo forti squilibri da una generazione alla generazione successiva sostanzialmente. Ogni nuova generazione è molto di meno rispetto a quella dei propri genitori e quella che verrà dopo è ancora di meno, non solo perché tieni bassa la fecondità, ma perché nel frattempo la fecondità del passato ti riduce anche la popolazione al centro della vita attiva e quindi anche le potenziali donne in età feconda. E quindi diventa proprio un meccanismo che si autoalimenta trainando verso il basso sostanzialmente, cioè andando a alimentare squilibri su squilibri. Ora, cosa è successo? Che il nord Italia ha iniziato per primo a ridurre la propria fecondità ed ha iniziato dalle categorie sociali con titoli più elevati, le coppie in cui anche la donna lavorava, si è scontrato comunque con un modello anche di welfare che andava ripensato e con tutte le difficoltà che questo poneva e il sud ha cominciato a diminuire successivamente. Il nord però ha avuto questa compensazione nel mente che si riduceva la natalità di flussi che comunque consistenti, che continuavano ad alimentare comunque la popolazione. Pensiamo a Milano. Milano, nonostante una fecondità in linea con la media nazionale, nel decennio scorso è andato in controtendenza, cioè era una popolazione quella di Milano che cresceva contro la popolazione invece italiana che diminuiva pesantemente. Perché? Perché Milano era stato in grado di attrarre in maniera consistente molti giovani, non solo dall'estero, dal sud eccetera, quindi queste dinamiche attrattive che contano molto. Cosa è successo? Che poi a un certo punto anche il sud ha cominciato a diminuire, con un po' più di ritardo, ad avere questa dinamica di fecondità che diminuiva. Quello che succede però è che quando la fecondità scende sotto i due figli per donna, sostanzialmente, le aree che riescono in qualche modo a non andare troppo sotto, sto parlando di tutto il mondo sviluppato occidentale, cioè le aree e i paesi che riescono comunque a mantenere una fecondità che non va troppo sotto i due figli per donna, sono le aree che combinano meglio benessere economico, qualità dei servizi, conciliazione tra lavoro e famiglia, opportunità per i giovani di formare una propria famiglia. Se voi confrontate l'Italia con gli altri paesi, vedete che nei paesi in cui queste condizioni ci sono di più, hanno una fecondità più elevata, mentre in Italia carenza di strumenti di conciliazione, difficoltà dei giovani a conquistare l'autonomia della famiglia d'origine e a conquistare le condizioni per formare una propria famiglia e tutti gli aspetti che poi riguardano le condizioni per poter formare una famiglia con figli, vedete che l'Italia è in posizione molto più bassa rispetto agli altri paesi, ma coerentemente il sud Italia si trova con una fecondità ancora più bassa rispetto alla media nazionale, cioè si è ribaltato, adesso la fecondità è più bassa al sud rispetto al nord, ma il sud oltre ad avere una bassa fecondità, si trova adesso con squilibri che combinano una demografia negativa, con squilibri quindi che vanno ad accelerare l'invecchiamento della popolazione ancora di più in Italia che già l'accenta rispetto agli altri paesi, ma con giovani anche che se ne vanno e quindi vanno ad accentuare ulteriormente gli squilibri attraverso i flussi di uscita e con difficoltà poi anche del sistema sociale economico, di poter poi riuscire a rivitalizzarsi perché in qualche modo perde le risorse più dinamiche che un territorio può avere per invertire queste condizioni negative. E quindi questo è quello che adesso è il problema effettivamente maggiore, riguarda il sud Italia, perché appunto è entrato più di un'area europea in questa spirale negativa di squilibri demografici che si combinano con carenze di welfare, condizioni economiche più svantaggiate che fa sì che i giovani che rimangono lì si trovano con più difficoltà a realizzare i propri obiettivi di vita e molti decidono di andarsene e questo appunto va ad accentuare quel processo che io chiamo di de-giovanimento, che è questo processo inedito di riduzione quantitativa delle nuove generazioni che poi rende debole qualsiasi altro processo che consenta poi un territorio di tornare a tornare ad essere vitale e a crescere. Il Covid, l'impatto del Covid sta peggiorando ulteriormente da molti punti di vista questa situazione perché anche i dati che abbiamo sulla intenzione dei giovani, sulla loro condizione economica, sulle possibilità di entrare nel mondo del lavoro in maniera solida, di costruire i propri progetti di vita si è fortemente indebolita e è andata a crescere ulteriormente poi l'incertezza nei confronti del futuro che è un altro fattore potente e rilevante nelle scelte di vita delle persone. Tenete presente che la nascita di un figlio è rimasto l'ultimo evento irreversibile all'interno del processo di transizione alla vita adulta perché tutti gli altri processi sono diventati irreversibili, cioè tu puoi uscire dalla casa dei genitori e puoi rientrare, è considerato normale, puoi trovare un lavoro, perderlo e ricercare un lavoro, puoi andartene in un altro paese e puoi tornare a vivere nel tuo paese, puoi formare ognuno di coppia, puoi tornare single, puoi sposarti e puoi divorziare, ma l'avere un figlio è diventata l'ultima scelta irreversibile, quella a cui corrisponde il maggior impegno positivo nei confronti del futuro e quindi ha bisogno sia di condizioni oggettive del presente adeguate, ma anche una prospettiva di miglioramento in cui tu possa intravedere un tuo ruolo positivo e attivo. Se non si riparte da qui tutto il resto non funziona. Quando dico che la demografia è al centro della lettura di miglioramento, lo dico in funzione di questo, cioè se noi mettiamo i giovani nella condizione di poter scegliere di avere un figlio, vuol dire che tutto il resto c'è. C'è la possibilità di vedere un futuro positivo, ci sono condizioni del presente accettabili, c'è la possibilità di conquistare un'autonomia della famiglia d'origine, c'è una condizione di lavorativa e di reddito che li soddisfa, quindi metterli nella condizione di fare la scelta principale impegnativa nei confronti del futuro, che poi devono fare liberamente, possono scegliere o non scegliere, ma metterli nella condizione di farlo, è l'indicatore più potente che noi abbiamo di fronte e a cui dobbiamo guardare per capire se la società, se l'economia, se il territorio sta andando nella direzione è giusto o no? Scusa, introduco anche il fatto che quindi tu stai investendo con questa riflessione tutto il tema sul sistema del welfare e dei servizi, inevitabilmente, è fondamentale, no? Perché se non hai politiche familiari solide e continuative, metà di questo ragionamento è capito perché i bonus non possono funzionare, perché un bonus ha un effetto temporaneo nel presente, mentre la scelta di avere un figlio è qualcosa che va al di là della prossima scadenza elettorale, quindi vuol dire costringere, mettere in campo delle politiche familiari su questa scelta che è la scelta che ha un orizzonte generazionale, avere un figlio adesso vuol dire portarlo fino ai 20 anni e vuol dire quindi pensare a come sarà il paese da qui ai prossimi 20 anni, è per questo che diventa fondamentale come indicatore rispetto alla capacità di un paese di non navigare a vista ma di avere una propria rotta. E chiaramente fra 20 anni, secondo le previsioni, l'Italia avrà o 3 o 5 milioni in meno di persone, il che vuol dire che praticamente rispetto a questo concetto, io avevo segnato come riflessione risorse e tasse, tu pensa che hai da mantenere le strade che ci sono, quindi praticamente una struttura costruita in un certo modo, giusto per banalizzare, che praticamente hai un sistema economico che ti deve reggere in un certo modo, ma non solo, l'altra questione è che di questi 3 milioni o 5 milioni in meno di persone, non sono, allora la perdita di popolazione è in qualche modo interessa tutto il paese, ma ci sono aree invece che sono competitive e attraggono e ci sono aree che invece pagano in maniera molto più pesante questa dinamica, perché non sono attrattive. Su cosa si basa oggi la competizione? Probabilmente la possiamo sintetizzare in tre aspetti. Offerta di lavoro, qualità della vita e progetto di futuro. Cioè, nel momento stesso in cui io sono un giovane, cosa devo fare? Se prendiamo uno degli elementi che sono emersi in questi ultimi anni, che sono usciti sulla stampa, gli italiani vanno all'estero, i giovani italiani vanno all'estero. Alcune riflessioni sono state, esportiamo test braccia, alcune banalizzazioni che ci sono state. Se guardiamo i dati sui giovani italiani che negli anni 2000 andavano all'estero, anche prima della crisi, prima delle tre crisi, prima delle due crisi, allora più o meno i livelli erano quelli, forse sono leggermente aumentati. Qual è la differenza? Perché vanno all'estero e non tornano più a casa, a differenza di prima. Cioè, praticamente si fermano. Si fermano perché, chiaramente, noi siamo un paese che stiamo lavorando al nuovo rapporto congiunturale, ho visto gli ultimi dati, praticamente siamo ultimi al mondo per tassi di crescita negli anni 2000. Terzi ultimi. Non in Europa, nel mondo. Cioè, questo è un paese che non sa più crescere, no? È un paese che ha dei problemi di carattere economico assolutamente pesanti. Ha anche un problema di rappresentazione corretta dell'economia del paese con tutta una serie di questioni, ma qui aprirei un'altra riflessione. Se rimaniamo sui dati ufficiali, sicuramente questo è un paese che fa fatica a competere. Fa fatica a competere e produce degli squilibri territoriali che sono drammatici. Allora, tre numeri che fanno capire quanto è importante il problema del mezzogiorno. 40% del territorio, 34% della popolazione, 25% del PIL. Allora, noi siamo il paese occidentale con la più grande frattura territoriale esistente. Secondo aspetto, allo stesso tempo drammatico, siamo il paese occidentale di economia avanzata con la percentuale di popolazione in lavoro più bassa di tutti. Scusate, se noi avessimo praticamente la stessa percentuale di popolazione che lavora e quindi ha opportunità di lavoro e quindi ha opportunità di produrre e di incidere sull'economia e se avessimo un minimo di equilibrio territoriale più ragionevole non saremmo questo paese. Allora, però è evidente che questo aspetto è un aspetto caratterizzante d'Italia, del quale è paradossale quasi non tenerne conto. Quali sono le politiche che abbiamo registrato in questi anni 2000? Adesso presenteremo a breve uno studio sulla Campania. La Campania praticamente in termini di crescita del prodotto interno lordo ha avuto solo un periodo in cui cresceva più del PIL del medio italiano, quando c'è stata praticamente la cassa del mezzogiorno, soprattutto la prima cassa del mezzogiorno. Che cosa faceva la cassa del mezzogiorno? Praticamente ha fatto due cose principalmente. Ha fornito delle strutture tecniche che hanno infrastrutturato il territorio, ci sono state politiche industriali anche criticabili perché hanno portato poi industrie di un certo tipo, ma soprattutto cosa ha consentito? Praticamente una tassazione e quindi investimenti industriali in aree del mezzogiorno vantaggiore rispetto a quelle del centro nord. Ma se voi andate a vedere che cosa è successo negli anni 2000 in termini di crescita del PIL e di capacità competitiva, ma è drammatico, no? Cioè allora questa questione degli squilibri che stanno determinando praticamente una serie di enormi cambiamenti, la quarta, la quinta rivoluzione industriale, il processo di digitalizzazione, il nodo della sostenibilità, una qualità, una competizione basata su elementi, come dire, alti, che richiedono praticamente la capacità di affrontare la complessità attraverso visioni sistemiche per forza di cose, non attraverso visioni semplici e lineari. Non è lineare il processo, cioè siamo assolutamente di fronte a un livello che si è alzato. O noi alziamo il livello, oppure la partita facciamo fatica a giocarla, no? E paradossalmente, se dovessimo dire, voglio dire, poi emergono tutta una serie di questioni che sembrano concentrare l'attenzione, che sono, alla fine, come dire, oggetti di distorsione di una riflessione che, siccome è difficile, non si riesce a fare. Questo è purtroppo il quadro che abbiamo davanti. E se io dovessi dire cosa succederà, l'esasperazione delle differenze territoriali del nostro Paese ci saranno tutte. Se guardiamo alcune grandi dinamiche economiche, è evidente che il nord Italia, alcune aree, diciamo, di connessione di sistemi urbani particolari, sono pronti, nella fase post-pandemia, a decollare. Il problema è che cosa succederà nel resto del Paese. Scusate, avete introdotto in questi termini di analisi sull'esquilibrio, non solo territoriali, demografici, che avete ben inquadrato e contribuito a definire. Come un altro fattore che può essere inclusivo e positivo, ma potrebbe anche, ma può essere, e lo abbiamo visto, spesso anche strumentalizzato, in un ulteriore fattore di squilibrio, come possiamo affrontare il tema anche dei processi migratori verso il Paese, dentro a un quadro che ha tutte quelle criticità che in qualche modo sono già emerse anche nel corso di questa nostra conversazione. Questo è fenomeno immigratorio, quanto è governabile anche demograficamente il flusso? Flussi che inevitabilmente, a parte le soste forzate anche della pandemia, potranno riprendere in maniera massiva. Beh, questo è un altro di quei temi rispetto a cui c'è una forte tendenza l'ipersemplificazione, no? Chiudiamo le frontiere e non facciamo entrare nessuno, oppure frontiere aperte entri chiunque, quindi questa lettura o di cuore o di pancia dove il cervello non è mai messo in connessione con tutto. E noi avremo bisogno invece di ragionare sui processi, per trovare poi delle soluzioni, perché quello dell'immigrazione è veramente un processo complesso e delicato, su cui non ci sono soluzioni semplici e bisogna anche sperimentare, provare, vedere cosa funziona, non funziona, monitorare, cambiare, riaggiustare e riprovare, perché è un percorso continuo su cui vanno cercate soluzioni che non sono banali. Il fatto è che finora l'immigrazione ci è sembrata in Italia troppa per tre motivi. Il primo è che è aumentata molto velocemente, cioè noi non eravamo un paese di tradizionale immigrazione come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, eccetera. Siamo trovati quasi improvvisamente e con una forte accelerazione, cioè in 15 anni abbiamo quasi raggiunto percentuali simili, anche se rimangono più basse rispetto ai paesi di grande immigrazione. Quindi questo è uno dei motivi, cioè abbiamo dovuto confrontarci in maniera molto rapida con un cambiamento che cambia, cambia le cose, perché evidentemente ha un suo impatto, una sua visibilità. Il secondo è la crisi economica, perché mentre cresceva e diventava intenso, siamo trovati poi a affrontare una crisi che metteva in difficoltà le famiglie, la possibilità di trovare occupazione e quindi si è ben esposto anche alla retorica di un'immigrazione che poi era eccessiva rispetto alle esigenze del paese, ma era per la crisi economica, non per la necessità di un paese che per crescere, per gli squilibri che ha invece, ha bisogno di un proprio percorso che legga questo processo al di là dell'emergenza, ma come integrato nel suo modello sociale di sviluppo, che è operazione che non abbiamo di fatto mai fatto, perché l'unica cosa di successo che noi abbiamo fatto con l'immigrazione è stata utilizzarla come argomento strumentale per le elezioni. Questo è riuscito molto bene ad alcune parti politiche, ma non siamo riusciti invece ad utilizzarla e valorizzarla in maniera adeguata e gestirla in maniera adeguata per invece i processi di sviluppo e di crescita del paese. Il terzo motivo per cui è stata percepita anche come eccessiva è che finora al centro della vita attiva del paese in Italia abbiamo avuto negli anni, i decenni scorsi, la generazione più consistente di sempre del secondo dopoguerra che erano i baby boomers. Quindi la combinazione di grande cresta dell'immigrazione che ha intercettato la crisi economica, ma con il centro della vita attiva comunque generazioni consistenti ha fatto apparire come l'immigrazione, come qualcosa in più superfluo che tutto sommato abbiamo dovuto subire. Adesso l'immigrazione non cresce più con quella rapidità e a un certo punto dovremmo sperare di riuscire ad attrare immigrazioni adeguate se vogliamo crescere. La questione è proprio questa, se noi pensiamo di non crescere allora l'immigrazione faremo fatica a gestirla perché non riusciremo a valorizzarla all'interno dei processi che alimentano la crescita del paese e quindi il rischio è quello di tensioni sociali etc. Se invece vogliamo crescere ne abbiamo assolutamente bisogno, se questo paese con i squilibri che ha vuole crescere non basterà portare l'occupazione giovanile, l'occupazione femminile ai livelli medi europei, non basterà portare la disoccupazione bassa sui livelli fisiologici perché la perdita che avremo nella parte centrale della vita attiva quando i boomers che già in atto si spostano verso l'età anziana, quindi aumenterà ulteriormente la popolazione anziana e crollerà in maniera rilevante per la prima volta nel nostro paese perché esattamente questa è la fase che stiamo vivendo, l'invecchiamento della popolazione l'abbiamo già sperimentato e continuerà a crescere, ma la riduzione consistente della popolazione al centro della vita attiva, questa è una cosa nuova che sta iniziando adesso e che pesa sempre di più adesso e che peserà sempre di più nei prossimi anni e decenni con cui dovremmo fare i conti. E allora un paese che vuole continuare da un lato a creare un sistema sociale che sia sostenibile perché le pensioni dovranno essere pagate, il sistema sanitario dovrà essere semmai ulteriormente potenziato, tutta una serie di voci verranno ancora di più assorbite all'interno della spesa sociale, ma dall'altro in più abbiamo un debito pubblico su livelli enormi, ma dall'altro la popolazione che può produrre ricchezza e benessere va a ridursi, non solo la popolazione che produce crescita e benessere, ma poi che finanzia il sistema di welfare e che va anche a rendere solidi tutti i servizi che poi, perché abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di tutti, non solo di pagare le tasse perché quei servizi ci sono, ma di persone che possono presidiare quei servizi. Come facciamo a farlo con gli squilibri che abbiamo prodotto? Questo è il grande interrogativo, quindi noi dobbiamo agire su tutte le leve che abbiamo a disposizione, quindi aumentare l'occupazione giovanile, aumentare l'occupazione femminile, far riprendere la fecondità, ma è chiaro che se anche invertiamo le nascite dobbiamo aspettare almeno 20 anni perché questo vada ad alimentare il mercato del lavoro e nel frattempo il vuoto maggiore sarà fra i 25 e i 45 anni, cioè proprio la fascia più produttiva e che è l'asse portante di qualsiasi paese e quella adesso è quella che diventerà, che ci troveremo particolarmente fragile e che dobbiamo irrobustire. Cerchiamo di capire come, cerchiamo di capire come rendere più efficaci la capacità di essere attrattive e di produrre processi inclusivi che poi consentono al modello sociale ed economico di far diventare l'attrazione dall'estero, l'immigrazione parte integrante del nostro modello di sviluppo, ma se vogliamo crescere ne abbiamo assolutamente bisogno, su questo non ci sono dubbi. Allora, provo ad aggiungere alcune cose. Durante la guerra di Siria, un'industria tedesca chiede al governo tedesco di importare tra i 500 e i 700 mila persone all'anno per il sistema produttivo tedesco. Naturalmente la Merkel su questa operazione ha avuto problemi, poi però l'ha fatta. Perché? Perché questo tema, sostanzialmente, che veniva sollevato adesso, ce l'ha anche la Germania, che ha più o meno una caratteristica demografica di piramide d'età come la nostra, è un processo di sviluppo come la nostra, è un sistema produttivo che in qualche modo è più forte, ma ci assomiglia. Questo discorso che veniva fatto adesso è fondamentale. Dobbiamo, secondo me, metterlo in relazione con un po' di storia. Una storia di flussi demografici e di ruolo che ha il nostro paese è l'istoria di crisi economiche e di dinamiche economiche. Perché se ci pensiamo bene, allora, noi per un certo periodo, che è quello degli anni 90, siamo stati in termini di immigrazione in realtà una trampolino di passaggio in qualche modo. Cioè gli immigrati arrivavano da noi e rimbalzavano adesso altre economie. A partire dalla seconda parte, diciamo, sul finire degli anni 90 e degli anni 2000, c'è stato un processo di accelerazione che ha portato in poco tempo, praticamente una decina d'anni, una quindicina d'anni, insomma da 900 mila stranieri a 5 milioni. Questo è un po' il quadro. Pensate alle dimensioni di una cosa di questo genere. Peraltro, poi lo dirò adesso su alcuni effetti anche sul tema rapporto sul mercato immobiliare, sulle case, sul... Nel frattempo che cosa succede? L'Italia negli anni 2000-2010, come dire, cresce poco. La crescita economica del paese è sostenuta solo dal settore delle costruzioni e dal boom immobiliare e dal 2007 in realtà comincia la nuova crisi economica. La prima crisi è una crisi, perché noi abbiamo vissuto tre crisi, praticamente in 12-13 anni. La prima crisi è una crisi internazionale, finanziaria, che ci colpisce naturalmente, come ha colpito gran parte delle economie, tranne Giappone e Germania, perché non avevano avuto bolle speculative immobiliari. Poi dal 2010 c'è un tentativo di rimbalzo, 2010-2011, le altre economie europee pian piano si riprendono, chi più forte chi meno, l'economia mediterranea entra nella crisi mediterranea. E quindi praticamente dal secondo semestre 2011 fino al 2014 recessione è più forte degli altri paesi europei. È evidente che da questo punto di vista, siccome chi viene oggi in Italia, viene alla ricerca di un progetto di futuro. Assomigliano molto agli italiani degli anni 50, del dopoguerra in sostanza. Cercano speranza di vita. Credo che ci siano analisi che dimostrino come fanno anche due lavori. Il loro progetto è il progetto dei ricongiungimenti familiari, far crescere i figli e dare ai figli un modello di qualità della vita. Il grosso del flusso di migliorazione è quello. Ma chiaramente se io poi ho una situazione economica come quella che abbiamo vissuto, evidentemente faccio fatica ad arrivare. E quindi questo è importante. Dopodiché arriva adesso la pandemia, un ulteriore elemento di crisi e quindi è evidente che mi ritrovi in una situazione un po' complicata. Peraltro ci sono anche degli elementi interessanti. Se voi andate a vedere, e credo che Rossina possa confermarlo, i dati oggi o anche una serie di elementi di previsione che abbiamo, abbiamo un dato stranissimo perché è possibile che in molte città crescano poi nei prossimi anni gli italiani. Come gli italiani? E adesso le acquisizioni di cittadinanza, di stranieri che diventano italiani. Allora i flussi di immigrazione degli stranieri entrano in crisi, ma crescono gli italiani. Adesso gli italiani sono quelli che sono arrivati da un po' di tempo che sono diventati italiani, sono i loro figli. Allora quest'elemento di un'analisi dei flussi di immigrazione, con la consapevolezza delle dinamiche demografiche che abbiamo, con le dinamiche, come dire, di scenario economico che abbiamo, è assolutamente fondamentale. I tedeschi, quando hanno chiesto, la Confindustria tedesca, quando ha chiesto al governo portateci queste persone, gli hanno anche chiesto, come dire, gli diamo anche una mano poi a integrarli, no? Per cui arrivano, in sei mesi gli insegnano la lingua, capiscono che cosa sono in grado di fare. Si sono anche scelti, praticamente, che hanno favorito flussi di immigrazione della Siria, anche con soldi, dal punto di vista formativo, con livelli anche alti, però anche sui livelli più bassi, praticamente, verificano come sono in grado di fare, se sono in grado di aprire attività imprenditoriali, li favoriscono in qualche modo, o altrimenti li portano con attività di formazione dentro il sistema economico. Allora è evidente che questo tema è un tema come dire, fortemente strutturale, che va affrontato con la consapevolezza di che cosa vuol dire, no? Non c'è dubbio che questo è così. Peraltro, se noi vediamo, insomma, il cuore della nostra attività, lo sapete, è il settore delle costruzioni, è le analisi dei processi di trasformazione fisica, è l'analisi dei mercati. Noi veniamo da una fase di ciclo espansivo che è stato spaventoso, sino dal 96, 95, 96, sino al 2006, 2007, con un boom immobiliare che il paese non ha, ma non è stato solo un boom immobiliare di case, tante di nuovo case nuove, è stato anche un boom demografico di famiglie. Non ci sono mai state così tante famiglie come in questo periodo, nemmeno nei periodi in cui cresceva tanto la popolazione, perché le famiglie diventavano più piccole, arrivavano i baby boomers che sono rimasti nelle famiglie di origine per più tempo e quindi sono usciti tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 e in più sono arrivati tutti questi stranieri che incidevano sul mercato immobiliare. C'è stato, abbiamo fatto delle analisi che erano sorprendenti, perché praticamente nell'ambito del mercato immobiliare si sono determinati, col boom crescente, quindi con la speculazione che c'era, delle fasce di domanda, incredibile, una sorta di ascensore sociale, per cui i proprietari di alcune case lasciavano delle case di minore qualità, il 16% del mercato immobiliare era dato dagli stranieri che prendevano le cose di minore qualità, che venivano lasciate per poi salire in un certo modo di livello. Ora questa partita qui che si è vissuta, si è fermata. In una recente ricerca che abbiamo fatto, l'esito finale della ricerca è pochi nipoti con tante case. Se andate a vedere cosa succederà in termini delle famiglie, famiglie di persone singole proprietarie di casa, nei prossimi vent'anni, i numeri sono incredibili, rispetto praticamente al saldo che si determina tra le nuove famiglie che si creano e quelle che si estinguono. Allora è evidente che anche da questo punto di vista la questione demografica è una questione centrale nello scenario di mercato. A maggior ragione sottolineavo il fatto che in alcune parti del paese questa dinamica demografica che misuriamo in termini di popolazione, ma che dobbiamo misurare in termini di famiglia rispetto ad alcuni ambiti di riflessione, determina praticamente uno scenario dove il patrimonio edilizio del nostro paese, soprattutto residenziale, ma non solo, sarà oggetto di profondi cambiamenti di ruolo. E se pensate che la ricchezza del nostro paese è che ci colloca delle nostre famiglie a livelli altissimi nel contesto e nel confronto internazionale, pensate a che cosa vuol dire perdere valore da questo punto di vista. Adesso ci avviamo ovviamente un po' alla conclusione, vi riconfesso che mi dispiace perché vi starei ad ascoltare per tutto il pomeriggio, ma non posso abusare, non possiamo abusare troppo della vostra disponibilità, anzi è un ringraziamento di cuore per questa vostra partecipazione. Mi permetto un ultimo argomento, un'ultima riflessione vostra, anche magari così un po' a flash, però molto legata anche agli aspetti forse più direttamente disciplinari in qualche modo. Da tutte queste considerazioni, tornando un po' ai nostri sistemi urbani e tornando anche a una tematica che trovo altrettanto cruciale nei prossimi anni, cioè la comprensione un po' del limite dei territori di questi nostri sistemi urbani, che quindi sempre meno avranno anche relazioni con le loro perimetrazioni amministrative o altri dispositivi di carattere amministrativo. Secondo voi le figure degli abitanti di queste città, perché parliamo sempre di abitanti, secondo voi non saranno, perché non lo sono già, solo una popolazione residente? Provate a darci una ridefinizione di quella che potremmo considerare la condizione dell'abitante della città, dell'abitante del sistema urbano. Quello che è vero è che sempre meno la popolazione che rende dinamica e vitale una città e che quindi partecipa in vario modo, in varie misure allo sviluppo sociale, culturale e economico è quella dei formalmente residenti all'interno dei confini amministrativi. La vitalità, la spinta effervescenza anche culturale, di relazioni e anche economica è sempre meno riconducibile semplicemente agli abitanti formalmente residenti. Quindi vuol dire che dobbiamo, siccome ci interessa la città come organismo, quello che è, come diventa, non possiamo limitarci a leggere la dimensione demografica dei residenti e questo è un tema che ci si pone anche proprio dal punto di vista demografico, cioè chi sono gli abitanti della città, non sono semplicemente quelli che risiedono formalmente. Quindi vuol dire che poi anche di conseguenza anche sul lato del governo delle politiche sociali, di sviluppo, deve tener conto anche dei non residenti, ma che vivono la città, che partecipano alla dinamica della città e che quindi devono entrare anche nelle scelte della città, perché nelle scelte dell'amministrazione della città noi ci mettiamo i residenti, in realtà non sono solo i residenti che partecipano positivamente e negativamente alle decisioni che vengono fatte e questo è un altro tema che non è irrelevante, che tocca tra l'altro molti aspetti di una società che è molto più dinamica, molto più complessa rispetto a come l'abbiamo sempre pensata in passato. E quindi c'è tutto il tema dei city users in senso più ampio, che sono una componente particolarmente rilevante della vitalità giornaliera della città e che tra l'altro incide in maniera più che proporzionale sulle età giovani adulte e quindi sulla componente della città che la città ha più interesse di rafforzare. Quindi tra l'altro noi quando diamo un ritratto demografico di una città in base ai residenti, sottostimiamo la componente giovane adulta che partecipa alle dinamiche di quella città che non è misurata nei residenti, ma che c'è e che c'è dal punto di vista del lavoro, c'è dal punto di vista culturale, pensate agli eventi, se c'è una città come Milano, ma non solo, che ha eventi prima del Covid che hanno sparsi un po' in tutto l'anno, è evidente che questo pesa anche in termini di attrazione rispetto a quel tipo di eventi, rispetto all'attrazione turistica, ma anche legata al business, legata all'economia, oltre che chi lavora effettivamente nelle aziende all'interno dei confini amministrativi e chi studia nel sistema delle università o formativo della città e quindi tutto il tema degli studenti fuori sede eccetera. Ecco, questo è un tema molto importante che richiede una ridefinizione di chi vive la città, chi ne partecipa e come può contare nelle dinamiche della città per migliorarla, perché poi questo fa la differenza, cioè questo vuol dire che noi dobbiamo, e qui chiudo, dobbiamo passare da una lettura di stock a una lettura di flusso, perché quello che conta è se la città è uno dei nodi della tua rete, quindi se tu hai studiato in quella città e il capitale umano tuo l'hai costruito in quella città, poi tu torni al sud o vai all'estero, quello comunque è qualcosa che ti è rimasto e quindi rimane un nodo della tua rete e quindi potrai tornare successivamente in un'altra fase della vita in quella città, potrai costruire delle attività culturali di ponte fra dove vivi e quella città o un'impresa economica, cioè o tornarci per eventi di vario tipo, quindi quello che conta è non tanto l'abitare fisicamente, ma la capacità delle città di farsi nodo all'interno delle reti di flusso delle persone, perché questo poi consente di lasciare comunque un'esperienza positiva che consente poi di diventare progettuale rispetto a qualsiasi poi azione e attività che si voglia fare e che diventa parte attiva della crescita di quella città o della vitalità che quella città può avere. Allora, condivido molto quello che è stato detto, ma mi viene da porre una questione intanzitutto, che cos'è la città, no? Cominciamo a dire questa è una città, allora qui c'è una storia che va praticamente dalla statistica fino alle grandi riflessioni che determinano che cos'è la città. Se uno prende la statistica, ancora oggi credo all'insè, in francese, praticamente sono le città, ma addirittura credo stiano ancora sui 2.000-2.500 abitanti, no? Cos'è la città oggi? Questa è la questione di fondo, no? Allora, è chiaro che, credo che nella tua domanda, Angelo, tu ti faccia riferimento alla città-città in qualche modo, no? Quindi a qualcosa di dimensioni di un certo tipo, che andrebbero definite, magari potremmo ragionare su città piccole, medie e grandi, non lo so, i metropoli, oppure megalopoli, e già cominciamo a fare confusione, nel senso che comunque questa è una riflessione importante. Se teniamo presente quell'articolazione di sistemi urbani a cui facevamo riferimento, prima, parliamo del nostro paese, il nostro paese ha un sistema insediativo complesso, articolato, dove la popolazione si distribuisce, per cui a questo punto, se parlo di città, se parlo di città di città, praticamente, se prendo quelle sopra i 200.000 abitanti, non so se, forse tocco il 30% di, non credo, adesso, voglio dire, noi siamo un paese di diffuso, di insediamento diffuso, questa è la cosa. Dopodiché, diverso è il peso economico, diverso è, praticamente, chi traina la partita competitiva, ed è giusta la riflessione, città abitanti o città lavoratori o città fruitori, questa è la connessione. La questione della rete, peraltro, è centrale, perché, anche con, e pone una serie di problemi nuovi rispetto a quello che il Covid sta introducendo, rispetto alla questione modelli organizzativi del lavoro, no? Quindi, rapporto addetto spazio, rapporto tra addetto funzione e luogo di svolgimento della funzione, no? Il 70% degli occupati oggi è terziario, il terziario è sicuramente il settore che oggi verrà, che, soprattutto, alcuni segmenti molto importanti dimensionalmente del terziario, sono i segmenti che vengono toccati più di altri, praticamente, da questo nuovo modo di lavorare che la pandemia, come dire, non ha fatto altro che rendere disponibile essendoci già, no? Cioè, se prendiamo tutta una serie di riflessioni sulle città reti, sul ruolo delle comunicazioni, delle connessioni, degli anni 90, già disegnavano, praticamente, la potenzialità del lavorare in qualsiasi luogo, no? Rispetto a un scenario di bottiglia, non era successo, no? O adesso, adesso sta succedendo, ed è, con la pandemia, come dire, concentrato, e questo determinerà, praticamente, sul tema della città, ma soprattutto su questa riflessione della città come nodo di connessioni, è un'ulteriore riflessione, perché, paradossalmente, cos'è la rete, la città, a questo punto? Cioè, questa è una... Qualche anno fa, adesso, c'è un bellissimo libro che affronta queste tematiche, non parlo solo di Castells, con le sue analisi, ma di due autori americani, adesso, mi sfugge di qualche anno fa, mi aveva molto colpito, e già disegnava con grande intelligenza, praticamente, quello che stava succedendo. Quindi, però, in questo scenario, per rispondere alla tua domanda, no? È evidente che l'abitante della città è colui che, come dire, gioca una partita d'avanguardia nel processo di innovazione e di sviluppo. Ed è praticamente null'altro che, praticamente, una rilettura, che era quella che faceva Simmel sulla città, sulla metropoli, e sull'Erlebnis, l'intensificazione della vita nervosa che, praticamente, la città, o Baudelaire, o Benjamin, cioè, voglio dire, questo è il momento, praticamente, di massima intensificazione di quello che è il processo più avanzato in quel momento. E di controllo, per quello, poi, la città attira chi? Chi vuole giocare questa partita, no? E non solo, ma c'è un aspetto rilevante che dobbiamo tenere presente. Sino a ieri, la competizione tra città, e ci pensiamo bene, lo possiamo leggere sul tema delle infrastrutture, era basata, praticamente, su elementi che potremmo definire, non solo survival, quindi nella città, per esempio, i servizi o le infrastrutture crescono prima che nel territorio, no? Oppure poi alzano di livello, e quindi, in qualche modo, la città diventa il luogo che anticipa, o meglio, che risponde alle esigenze di un processo di sviluppo. sviluppo. Oggi la città che vince è la città che è proattiva, non reattiva, le crea le occasioni, cioè le determina, e il resto del sistema si adatta praticamente ai processi di innovazione che vengono dati dalle città. E se dovessi dire qual è il vero problema del nostro paese, è che le nostre città sono rimaste, come dire, città poco proattive rispetto a quello che invece succede nel mondo, nell'ambito della competizione, no? Allora, quali sono gli abitanti della città? Sono praticamente, per una fascia, questi soggetti in grado di creare queste situazioni, dai vari punti di vista, e dall'altra, gli abitanti tradizionali della città, che però sono, come dire, quasi qualcos'altro rispetto a questo scenario. Io vi ringrazio naturalmente moltissimo, non solo personalmente, ma a nome di tutto l'Istituto, perché il vostro contributo è veramente determinante per noi, è stato molto stimolante, raccoglieremo queste interviste, poi naturalmente ve le anticiperemo per capire anche con voi come, come verranno divulgate e anche i limiti di questa divulgazione, ovviamente, nel ringraziarvi vi devo lasciare un piccolo compito, che non necessariamente… Sì, no, ma non è solo questo, no, questo è un aspetto molto formale, no, no, direi più sostanziale, nel senso che chiediamo a tutti i nostri interlocutori se ci regalano tre parole, tre parole chiave, dal loro punto di vista, dal loro osservatorio, per interpretare il futuro. Lo so che interpretare il futuro attraverso le parole non è così sempre efficace, però noi confidiamo che questa raccolta di stimoli possa diventare anche uno strumento di riflessione ulteriore. Allora, Alessandro ne ha già detto addirittura quattro prima di parole, non so se mi riconfermerà quelle parole, ma le chiederò a tutte e due, se non in diretta, volentieri magari se me le fate pervenire. Va bene, no, se vuoi io te le dico in diretta. Ah, va bene, io ti dico, Alessandro ti ha un po' anticipato perché all'inizio ha detto vi do le quattro i, poi… Allora, siccome parli di futuro, allora, ne avevamo, insomma, ve le dico perché ci stiamo ragionando, quindi mi viene facile. La prima di queste parole è… sono tutte parole con punti interrogativi, è euforia. Se noi guardiamo al futuro, è il tema praticamente una volta passata la pandemia che cosa succederà, no? Allora è molto probabile che nella domanda ci sarà, ci possa scatenarsi un sistema euforico con tutti i rischi e quindi questa sicuramente è una cosa. L'altra parola fondamentale è qualità dell'allocazione, quindi è allocazione, quindi come noi sapremo in questo momento affrontare la questione dell'allocazione delle risorse. Questo tema è fondamentale e lì ci giochiamo tantissimo perché o si innesca un processo innovativo o le condizioni sono pesanti. Tenete presente che nel momento stesso in cui c'è questa pandemia economica europea tutti si stanno riposizionando, no? Ognuno era in una condizione competitiva, chi più avanti chi più indietro, ma si stanno riposizionando con queste potenzialità anche quelli che stavano avanti, con più potenzialità di noi e se sono più bravi di noi pensate a che cosa può succedere nella fase successiva. Quindi qualità dell'allocazione delle risorse, quindi allocazione è fondamentale. La terza parola è offerta. Perché offerta? Perché nello scenario che vediamo non è solo un problema, molti si stanno, come dire, sono attenti alla qualità di spesa, alla capacità di spesa della macchina pubblica. Noi siamo in questo momento molto preoccupati sulla capacità del sistema dell'offerta del nostro paese, almeno nei settori che noi conosciamo, di cogliere praticamente le opportunità che si stanno determinando. La crisi colpisce, i sistemi sono di un certo tipo, le dimensioni, il salto di dimensioni del mercato può essere molto rilevante e la capacità d'offerta oggi è determinante. Allora questa cosa, secondo me, è uno dei grandi nodi della sfida di questo e dei prossimi anni. Quindi euforia, allocazione e offerta. A questo punto anch'io rispondo in diretta, però con altre tre i diverse da quelle appunto dell'inizio, perché quelle tre sono le i dei grandi cambiamenti in atto, ma di come dobbiamo rispondere per interpretarli, direi innovare, quindi la capacità di produrre nuovo che abbia successo e che aiuti a migliorare la realtà in cui viviamo, includere, c'è la possibilità quindi di condividere il miglioramento che mettiamo in atto e di imparare, cioè apprendere continuamente, sperimentando quello che va nella direzione giusta e come aggiustare poi il percorso per costruire una società migliore. Grazie di cuore, non posso altro che concludere in questo modo, quindi a presto, un abbraccio a tutti e a voi, grazie. Grazie, a presto. Grazie. Grazie. Grazie.